Omelia della prima domenica di quaresima Siamo giunti alla prima domenica di quaresima e il Vangelo di oggi ci presenta uno degli episodi più misteriosi della vita di Gesù le tentazioni a cui fu sottoposto nel deserto da parte del demonio Questo episodio ci insegna innanzitutto che il demonio esiste, che abbiamo un nemico nelle nostre anime il quale è continuamente attenta al nostro bene Il demonio fa di tutto per non essere scoperto ci fa credere che lui non esista per poter agire indisturbato Dobbiamo dunque aprire bene gli occhi e difenderci con le armi della preghiera? Gesù è tentato Si tratta solo di tentazioni esterne, non di quelle interne dovute alla concupiscenza Era comunque impossibile che Gesù potesse soccombere a quelle tentazioni del demonio Egli ha voluto comunque fare sue le nostre tentazioni per donarci la sua vittoria Inizialmente il demonio disse a Gesù Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane Ma Gesù rispose Non di solo pane viverà l'uomo Con questa prima tentazione il demonio induce tante volte l'uomo a ricercare unicamente il benessere materiale E a disinteressarsi completamente del bene della sua anima Impariamo da Gesù a ricercare principalmente il regno dei cieli e la sua giustizia Pensando che Dio è un padre provvidente che non lascerà mancare nulla a coloro che in lui confidano Il demonio tentò Gesù una seconda volta Egli disse mostrandoli tutti i regni della terra Ti darò tutto questo potere e la loro gloria Se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me Tutto questo sarà tuo Questa tentazione ha come scopo quello di indurre l'uomo a mire ambiziose Ad aspirazioni al potere, al successo, alla gloria umana Ma dietro queste aspirazioni tante volte si nasconde l'insidia di Satana L'uomo pur di arrivare a queste mete Tante volte è disposto a scendere a compromesso con il peccato E a dare gloria non a Dio ma al maligno Gesù allora rispose Sta scritto Il Signore è Dio tuo, adorerai A Lui solo renderai culto Insegnandoci così a non lasciarci ingannare dall'uccichio della gloria mondana La terza volta il demonio disse a Gesù Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui Presumendo che gli angeli lo avessero portato sulle loro mani Fu una tentazione di presunzione La tentazione di avere un Dio a nostro capriccio La tentazione che Dio faccia la nostra volontà invece del contrario E' la tentazione di disporre dei miracoli a proprio piacimento Di pretendere che Dio si faccia vedere La tentazione addirittura di giudicarlo Gesù rispose con queste parole Non metterai alla prova il Signore Dio tuo Gesù ci fa comprendere infatti Come siamo noi a dover compiere l'adorabile volontà di Dio In questo consiste la nostra felicità Nell'obbedire a Dio L'episodio delle tentazioni del deserto ci fa riflettere su quelle che sono le nostre tentazioni A differenza di Gesù Noi tutti siamo inclinati verso il male E dobbiamo continuamente lottare contro i nostri vizi Dobbiamo difenderci con le armi che abbiamo a nostra disposizione Le armi sono quelle dell'umiltà Della carità e della preghiera Prima di tutto dobbiamo avere l'umiltà di non presumere di noi stessi L'umiltà di allontanare le occasioni prossime di peccato L'umiltà di ricorrere senza indugio al consiglio spirituale di un buon direttore spirituale E l'umiltà di manifestare sinceramente le nostre colpe al sacerdote nella confessione Poi abbiamo la carità che mette letteralmente in fuga il demonio Durante questa quaresima facciamo dei propositi generosi Di spendere un po' del nostro tempo nel soccorrere chi è nel bisogno Nel riconoscere, amare e servire Gesù nella persona del nostro prossimo Infine abbiamo la preghiera Che ci fa superare le nostre debolezze E ci riveste della fortezza di Dio Al primo apparire della tentazione Dobbiamo subito ricorrere all'orazione Confidando pienamente che Dio non ci abbandonerà La nostra preghiera avrà un'efficacia particolare Se ci ricorderemo di invocare con fiducia la Vergine Santissima Colei che è la vincitrice sul demonio e su tutte le sue tentazioni Il Signore si è servito di lei per schiacciare la testa al serpente infernale Proprio per la sua profonda umiltà Ed è sempre grazie a lei che si superano le prove Quando sorgono dunque delle tentazioni Invochiamola e tornerà presto il sereno